Ciao, ciao a tutti, ciao! Benvenuti alla posta di febbraio di Barbie Show. Cominciamo subito con fare gli auguri di buon compleanno. Allora abbiamo due compleanno in ritardo di dicembre. Il 2 dicembre di Tina Randazzo e il 30 dicembre di Dolce Cucciolotta. Tanti auguri! E poi abbiamo altri compleanno in ritardo di gennaio. Il 14 a Ornella Silvestri, il 15 Cristina 93, il 23 Walter Valfede e il 24 gennaio Kelis Maria Pavanel. Auguri anche a voi, anche se in ritardo. E ora facciamo gli auguri di compleanno di febbraio. Il 1 febbraio Fabio Zingrillo che ha compiuto 5 anni. Il 2 febbraio Maria Isabella Ascione. Il 3 a Chiara Basile. Il 4 a Chiara World. Il 6 di Letta BTR più Estera Amariei. L'8 a La Mamma di Dani Lilla. Il 9 a Christel Basile. L'11 febbraio ha compiuto gli anni Sorbello Ariadni più Rebbi Arts. Il 13 Sara Isabella. Il 17 gennaio Angela Lanzillo. Il 20 Luisa Pilastro. Il 26 a Valaria Romeo. Jessica Love. E Angelica. E fare gli auguri da parte anche dell'amica Anna05. Tanti auguri a tutti quanti. Tanti auguri, 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 auguri. Mmm, in questo frigo non c'hai proprio un bel niente. Beh, ora vengo anch'io perché non posso non esserci un videoposto, eh. Sì, dai, no, non sbrigati, vieni a sederti. Oh, eccomi qua. Allora io comincerei con i saluti. Allora salutiamo Sofia Casilli, Fra e Simos, Martina Nappi, Alessandra Condito, Ima Papa, Lorenza Magliulo, Veronica Serro, Mori Forever, Chiara Cuoco, Maria Pia Di Moio, Giulia Wolf 27, Camilla Zangrado, a cui facciamo anche un in bocca al lupo per il concorso di danza. In bocca al lupo, Camilla. In bocca al lupo, eh. Sì, sì. E poi proseguiamo salutando Mena71it, Chiara Pia Ferrara, Alessia Anzolin, Angelo Fuliani, Love Jasmine Love, Letizia Tucci, Nicole Aurora Badea, Nina e Laura Quartuccio, Giuliano Zavacru, Rosaria Pipitone, La Famiglia di Barbie, Toys Italia Channel, Alessandra Fantone, Aurora Lemuli e Salvatore Bossa. E poi continuiamo con I Love H2O, Sofia e Laura Casilli, poi Carla e la cugina Ilaria Oreste, Delziuska Rocca con l'amica Francesca, Enza Zingarino, Angelo Friani, Chiara Sebastian, Giampiero Andriulo, Alessia Mendolea, Frenchy Girls, Lucy Bentita, che è la sorella di Raua, Giulia Russo, Paola Cibelli, Melissa Corraro, Giuliana3322Ciao, Tiziana Vargiù, Maria Calisa e Chicca Neri. Continuiamo con Bostanza Cavalli e Anna Maria Minutolo. Ah, e Pink Channel. Sì, Pink Channel. E ora andiamo avanti con Barbie Amore e Litigi Barbie, Francesca Melpignano, Maria Pia Di Muoio, Famiglia Lengo e Leonora, Angela Lanzillo, Salomè Pioppini, Gaia Agostinello, Elsa 008, Alessia Mendolea, Sara Mallus, Barbie Story, Mimmo Fraraccio, Costanza Cavalli, Antonio Tracagnotti, Daniela De Luca e Romina Schiavone. E concludiamo con Serena Lucia Martinez e Gaia Fiengo. Ah, e vi diciamo che è pronto anche il calendario di marzo, quindi basta andare in descrizione, cliccare sul link e scaricare l'immagine. Mi raccomando, continuate a seguirci su Facebook e su Instagram. E sempre in descrizione ci sono i link per le pagine. Ciao, 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 ciao a tutti, ciao al prossimo video posto, ciao, ciao.